Per innescare correttamente il cefalo utilizzo degli ami Aberdeen della misura 1. Buco il cefalo vicino alla coda, superficialmente, facendo scorrere l'amo e il filo e poi lo innesco di nuovo vicino alla testa, con la punta rivolta all'indietro. Quando la spigola mangia, infatti, ingoia sempre il pesce dalla testa. A questo punto, quando la spigola prende l'esca, tenderà a scappare per poi ingoiarla. Dobbiamo lasciarle prendere il filo e, quando si ferma, ferrare. Se abbiamo fatto le cose correttamente, troverete l'amo nella parte iniziale dello stomaco del pesce e sarà impossibile che questo si slami.